Nel 2022 abbiamo impegnato 5,3 miliardi di euro per investimenti in imprese strategiche e in fondi a sostegno dell'ecosistema italiano del private equity, del venture capital e delle infrastrutture sostenibili. Il nostro intervento ha consentito di attrarre ulteriori risorse da investitori privati, generando un effetto leva di oltre due volte. Tra le principali operazioni dell'anno vi è quella in favore di GPI, un'azienda leader nella sanità digitale. Abbiamo partecipato con 70 milioni di euro a un aumento di capitale per favorire la crescita della società e migliorare l'accesso dei cittadini alle cure. Rinnoviamo ogni giorno il nostro impegno di azionista stabile in asset chiave per l'Italia, seguendo la logica di dotazione del capitale. Usciamo dalle imprese al raggiungimento degli obiettivi prefissati per investire in nuove iniziative. Sosteniamo inoltre la crescita del private capital italiano attraverso le nostre risorse e con il coinvolgimento di altri partner finanziari. I GPI siamo noi! Grazie a tutti! Cal Bangkok musica Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.